Allora, sono Nadir Vasena, compositore, vivo a Lugano, non molto lontano da dove sono nato. Ho cominciato come capitava molto spesso qui in Ticino, quando non c'erano ancora delle scuole vere per studiare musica. Ho cominciato in una banda, quella del mio paese. Mi sono interessato sempre di più alla musica, poi durante degli anni del liceo l'interesse è diventato via più così verso la parte teorica, quindi verso la composizione. Ho studiato a Milano in seguito al conservatorio e poi sono partito per la Germania e poi sono ritornato in Ticino. Questo è un po' il percorso. Non so se c'è uno stile musicale svizzero. C'è sicuramente qualcosa che forse accomuna molti compositori svizzeri. Il fatto di aver spesso studiato all'estero, quindi di essere anche aperti a influenze di vario tipo, chi è rivolto verso la Germania, chi è rivolto verso l'Italia, verso la Francia. Di spesso essere tornati in Svizzera e quindi di vivere, credo, con una certa tranquillità questo fatto di essere svizzeri e quindi di essere così non per forza identificati neanche con una cultura o uno stile o un orientamento di qualche tipo. Credo che sia una ricchezza che poi arricchisce a sua volta un po' tutto il panorama culturale svizzero, dove in realtà si trovano offerte, si trovano compositori talmente diversi. Forse si trova più diversità in un piccolo paese come la Svizzera che in altri paesi molto più grandi. Beh, sicuramente è una sorpresa, una sorpresa piacevole. Ovviamente ricevere un premio è sempre qualcosa di piacevole, non si sa bene perché lo si riceve, perché a me e non perché a qualcun altro. Non lo so, sono rimasto un po' così, ovviamente sono ben felice di questa cosa, tanto di più non saprei dire. È anche vero che magari in Ticino non siamo in tanti, quindi prima o poi c'è il rischio che capiti un po' a tutti. Allora, conosco alcuni degli altri nominati, sicuramente ovviamente i compositori, i compositori in Svizzera credo che ci conosciamo più o meno personalmente tutti. È un mondo abbastanza piccolo, i nominati di altri ambiti magari conosco un po' meno, ma ricordo Nick Birch per esempio che ho invitato qui a Lugano qualche tempo fa con Oggi Musica. Quindi in realtà ci conosciamo un po' tutti e capita o è capitato o capiterà di collaborare o di fare delle cose insieme. Questa è una domanda difficile, la musica è così tanto legata al posto dove viene eseguita, la musica è pensata per uno spazio, quasi sempre pensata in realtà per un luogo ben preciso. Quindi è difficile a volte spostare proprio pezzi da un posto all'altro. Ovviamente in Svizzera ci sono delle belle sale, magari poi dipende, ci sono aspetti tecnici, quindi dal punto di vista dell'acustica ci sono altre sale dove magari uno ha un rapporto più personale, più vicino perché ha dei ricordi personali con questi luoghi e quindi sono più piacevoli di altri. Ci sono posti, mi piacciono molto i posti che non sono pensati come sale di musica, ma che sono nati per qualcos'altro e poi vengono convertiti in luoghi dove si può anche fare musica. Perché proprio portano, portano così scritte nelle mura, magari altre storie che è bello avvicinare poi a quelle musicali. Se dovessi scegliere un posto non saprei cosa scegliere. Ma diventa probabilmente un po' un minestrone mettere tutti assieme e così come nel minestrone ci sono tanti gusti separati che però poi funzionano bene tutti assieme. In questo caso non so se la ricetta finale potrà riuscire. È divertente l'idea di mettere assieme tutti questi compositori, questi musicisti e farne un piatto unico. Allora, soprattutto adesso mi sto dedicando a diversi lavori di musica da camera, che sono le cose che forse faccio con più interesse in questo momento. Quindi piccole formazioni, ho un trio d'archi in gestazione, poi vorrei scrivere un ciclo per un altro trio. Quindi diciamo che sono tanti progetti relativamente piccoli come formazione, ma dove sento che posso provare tante cose e sperimentare un po' cose che non ho magari mai fatto. Di fatto fisicamente sarò qua a Lugano per la maggior parte del tempo, anche perché i compositori sono un po' noiosi, lavorano nella loro cameretta, non sono interessanti da vedere.